La serie TV Le Cronache dei Vampiri verrà trasmessa sulla piattaforma Streaming Hulu La serie televisiva The Vampire Chronicles verrà trasmessa sulla piattaforma Streaming Hulu, i diritti della produzione dello show, tratto dai romanzi della scrittrice Anne Rice, sono stati acquisiti da Paramount Television e Enonem Escortem L'accordo è stato stilato da David Goldman ed Erika Kirkwood per Paramount Television, e Cae Christine Cudi di Clemberg Lange per conto di Anne Christopher Rice L'accordo include i diritti per gli 11 libri della saga della Rice, che già entrambe le case di produzione avevano acquisito nell'aprile 2017, questo progetto vedrà l'affiancamento anche del figlio della scrittrice, Christopher Rice Il primo grande giorno per me in questo progetto è stato quando mia madre mi ha chiesto di collaborare con lei e su di esso, l'annuncio di questa entusiasmante collaborazione con Paramount Television e Enonem Escortem Dunque Rice Jr. sarà produttore esecutivo della serie Insieme alla madre Anne, a David Cantor e a Steve Golin, inoltre, dopo l'abbandono da parte di Brian Fuller, ideatore di Annie Bow, a cui era stato affidato lo script dello show, la stesura del pilot sarà presa in carico da Christopher Rice Non è stato però ancora trovato un nuovo showrunner che sostituisca Fuller che doveva ricoprire anche questo ruolo Vampire Chronicles, anticipazioni su trama e titolo del primo episodio della serie Finalmente, dopo molti mesi passati dall'annuncio dell'acquisizione dei diritti sui libri della Rice, da parte della Paramount Television e Enonem Escortem, il figlio di Anne Rice ha dato qualche anticipazione sul primo episodio della saga, il titolo potrebbe essere The Vampire Lestat Dunque il primo capitolo ci mostrerà le origini del vampiro Lestat, quando era ancora umano, prima che venisse trasformato dall'antico vampiro Magnus Il giovane Lestat abitava nelle selvagge terre della Francia del XVIII secolo e il suo villaggio venne minacciato dai lupi che lui era riuscito a sconfiggere fino all'ultimo Questa sua impresa l'aveva reso ancora più attraente agli occhi del giovane Nicolà Dell'Enfant, che diventerà poi il suo amante, Lestat nella sua esistenza umana e bisessuale Su quest'ultimo particolare la scrittrice Anne Rice ha voluto sottolineare che la serie tv affronterà l'universo e il vissuto dei vampiri indipendentemente dal loro orientamento sessuale, Lestat vive in un'era priva di etichette, all'inizio, prima di diventare vampiro nell'ottocento, Lestat era bisessuale, e vogliamo mostrare questo .